Allora Piero Sestili, candidato per le primarie del PD, siamo appunto in tempo di primarie quindi partiamo da questo che sembra il tema caldo, c'è stata molto polemica per l'esclusione dei Verdi da questa prima parte di lotta, lei è d'accordo di aver detto no a Sgarbi? Io trovavo difficile sistemare non i Verdi, perché loro secondo me sono una parte integrante della nostra coalizione, trovavo difficile sistemare Sgarbi all'interno di una coalizione di centro-sinistra, unicamente per il suo passato politico, non certo per la figura, lo spessore culturale che è innegabile, anche forse lo stimolo che avrebbe potuto dare e magari darà in altre vesti alla vita politica cittadina, però insomma il suo ingresso in una coalizione di centro-sinistra lo vedevo un po' difficile proprio per il suo DNA politico. E appunto quindi la lotta si è ristretta poi del PD, se dovesse vincere come si comporterà con gli altri? Porterà qualcuno di loro nella sua squadra, nel suo entourage? Se dovessi vincere e poi dopo dovessi vincere anche le elezioni amministrative, credo che prevarrà anzi sicuramente prevarrà una logica di individuazione della squadra sulla base delle capacità personali e quindi ritengo che non sarebbe un metodo giusto quello di cominciare a fare delle alchimie sulla base dell'ordine d'arrivo degli altri candidati, privilegierei comunque una metodologia che è quella dell'individuazione di una squadra di governo basata sulle competenze, basata sulle capacità e sulle volontà personali, ovviamente anche sull'adesione alla mia visione della città, includendo anche delle persone che non hanno nessun passato politico, ma solo capacità individuali, professionali, quindi privilegierei questo aspetto metodologico. A proposito di persone nuove che magari non hanno avuto un ruolo importante nella politica, uno degli avversari a battere è Scaramucci che si è definito essere il vero uomo novus del PD a Urbino e ha definito voi gli altri avversari quasi ormai che il vostro tempo è passato, cosa gli risponde lei? Rispondo che quando uno si definisce da solo qualcosa già c'è un errore di fondo, c'è un'autoreferenzialità che non è compendiata da quello che è il sentore comune delle persone, quindi è una sua autodichiarazione. Per quello che riguarda me e non gli altri candidati, posso dire che la mia avventura politica nel PD inizia nel 2009 come indipendente, dopo un anno e mezzo mi sono tesserato nel partito, quindi ho un'anzianità di servizio di tre anni e mezzo, mentre mi sembra che dopo Scaramucci sia stato già nei DS, poi dopo ho avuto una ascesa come renzista, adesso è nell'assemblea nazionale, quindi mi sembra che se lui dice di me che sono vecchio, io potrei dire che anagraficamente lo sono, ma da un punto di vista della carriera politica non mi sembra assolutamente di esserlo. Ho sempre dimostrato, credo, una mia autonomia intellettuale politica e per cui questo tipo di critica la rimando direttamente al mittente. Passiamo ora un po' più ai temi caldi, alle proposte del suo programma, partendo da Urbino come città in cui vivono più studenti che residenti e se lei pensa che ci sia un equilibrio giusto, ha trovato la soluzione per far coesistere lo sbaglio dei giovani e il rispetto della città della tutela del centro storico. Se avessi una ricetta vincente probabilmente avrei così tante capacità che forse sarei delle sfere più alte. Il problema è un problema oggettivamente molto particolare, da me molto sentito, tant'è che nell'ultimo anno e mezzo mi sono interessato in maniera specifica delle dinamiche, non direi delle problematiche, dei rapporti tra la città e gli studenti e nel mio programma ci sono una serie di declinazioni importanti su questo tema. Primo fra tutti, secondo me sarà fondamentale ed è una parte fondamentale della mia visione della città, quella di creare un'integrazione migliore tra tutto il mondo della formazione, quindi università, grandi scuole, accademia e via discorrendo e amministrazione pubblica cittadina. Perché da lì secondo me si riusciranno a trovare delle energie sia per integrare queste componenti in maniera proficua ed efficace, sia per creare delle occasioni e dell'opportunità di lavoro in tutti i giovani che gravitano a Urbino, che io sarei contentissimo se potessero non esaurire con la laurea la loro esperienza in città e per questo stiamo lavorando l'acremento per creare una base che possa costituire un incubatore di idee e di aziende dove diversi enti collaboreranno proprio per dare delle opportunità di autolavoro alla fine, perché si tratta di creare aziende sulla base di progetti alla moltitudine di giovani che lavorano a Urbino. Questo è un primo aspetto a medio termine di un'inclusione secondo me proficua e che potrebbe essere importante per la città. Il secondo aspetto attiene a una sfera ludica, come dire, delle città universitarie, è un problema che esiste anche in altre realtà, anche più grandi di Urbino, pensiamo a Siena, pensiamo al centro di Perusa, pensiamo al centro di Bologna, dove la coesistenza di questi due mondi crea sempre delle difficoltà. A Urbino sono maggiormente sentite perché le dimensioni sono molto piccole, quindi c'è una densità di confronto molto elevata, aggravata dal fatto che in centro storico vivono pochissimi residenti e questo crea un contrasto sociale sostanzialmente nullo. Devo concludere dicendo che la sfera dell'ordine pubblico propriamente detto è competenza specifica del prefetto che dovrà attuare, e credo che il sindaco stia lavorando in questo senso, attuare tutto quello che serve per rendere più silente e meno dannoso questo rapporto per i cittadini. Poi ci saranno molte altre cose da fare, tipo trovare luoghi dove gli studenti possono divertirsi, svagarsi senza creare problemi. E rimanendo appunto alla tutela anche della città del centro storico, le telecamere installate sia per la ZTL, quindi regolare il traffico dentro, ma anche proprio per il controllo notturno, sono servite davvero, servono davvero, sono sufficienti? Adunque adesso è partito un progetto definito come mille telecamere o mille occhi sulla città che vede un incremento del controllo per mezzo delle telecamere e dei centri storici, incluso Urbino, quindi mi riferisco anche ad altri centri della provincia come Pesano. Io credo che sia importante, perché intanto c'è una dotazione tecnologica diversa nelle nuove installazioni che consentono, ripresa ad alta risoluzione, che consentono anche di vedere di notte sostanzialmente. Questo crea sicuramente un deterrente, una capacità di maggior controllo, una capacità di maggior controllo anche dei flussi dei studenti, dei giovani che di notte, giovedì notte frequentano la città. E ritengo che sia un deterrente senz'altro importante. E poi le telecamere andranno anche non solo nella Piazza della Repubblica, ma saranno puntate anche su altri luoghi meno illuminati, diciamo, dalla presenza delle forze dell'ordine, quindi ritengo che sarà un deterrente importante. Urbino è destinato a rimanere così irraggiungibile? Riguardo il problema trasporti c'è ancora chi crede al ripristino della ferrovia. Lei quale sarebbe la sua politica riguardo al potenziamento dei trasporti o se c'è bisogno proprio di un potenziamento? Sicuramente c'è bisogno di un potenziamento dei collegamenti di cui Urbino potrà godere. Qui abbiamo due partite aperte, una è quella della Fano Grosseto che deve essere realizzata, il problema lì è che la sede viaria è stata progettata con un tracciato che non trova completamente d'accordo i comuni che saranno interessati dalla sede stradale stessa e quindi c'è in atto una trattativa tra i comuni dell'Alta e Media Valle del Metauro e la società che sostanzialmente deve realizzare l'opera. Io mi auguro che questa fase si superi e credo che quella sarà un'opportunità grandissima per Urbino perché ci metterebbe direttamente in contatto con un mondo turisticamente molto avanzato e rilevante che è la Toscana e l'Umbria. Per la ferrovia in questi giorni sono in corso delle accelerazioni, questa mattina sulla stampa il Sindaco Corbucci ha preso una posizione circa la paura che venga spezzettata la proprietà dei lotti sui quali insiste la sede ferroviaria, si auspita che la comperi tutta l'ente provinciale e sulla sua destinazione ci sono molti progetti. Io non so quanto sia tecnicamente possibile ripristinare la ferrovia, quindi questo non lo so, sicuramente al di fuori delle capacità del comune sarebbe senz'altro auspicabile, anche perché fu un grave torto subito da Urbino, quello di veder chiusa la tratta ferroviaria unico ramo secco in tutta Italia negli anni 80 e sarebbe molto bello rivederla sostanzialmente. Altre soluzioni per la sede ferroviaria sono ugualmente interessanti, ma il dibattito deve ancora andare nella fase viva, io sarei contento di riaprirsi la ferrovia comunque. La discarica di Caluce deve essere chiusa e ampliata? Dunque, proprio questa mattina ho dato notizia di un'iniziativa che come Consiglio Comunale stiamo prendendo, è un'iniziativa non politica, nel senso che non deve riverberare sul futuro di questa consultazione elettorale, ma è un'iniziativa dovuta, è un atto amministrativo nel quale, assieme ad altri consiglieri del Partito Democratico, chiediamo l'impegno del Sindaco della Giunta affinché chieda a Marche Multiservizi di ridurre in maniera significativa i problemi che attualmente insistono su quel sito, e cioè l'emanazione di sostanze odorose e l'eccesso di percolati che vengono drenati e portati via con mezzi gommati dalla discarica, che crea un traffico veicolare insostenibile per la popolazione. Quindi devono essere strutturata? Prima cosa devono essere fatti degli interventi tecnici da questa amministrazione, perché non si può aspettare la primavera o, peggio ancora, l'insediamento di un potenziale nuovo sindaco e di una potenziale nuova giunta per affrontare i problemi di gestione tecnica attuali. Quello che ho detto è che, essendosi manifestati dei problemi attinenti alla gestione ordinaria della discarica, questo crea una situazione per cui al momento, secondo me, risulta difficile pensare a un ampliamento così come era pensato fino a un paio di anni fa, un anno fa. Per cui la posizione è interlocutoria, vediamo prima quali sono le effettive capacità di stoccaggio e di gestione dell'impianto e successivamente poi si vedrà qual è il percorso da seguire. Se dovessero continuare a manifestarsi problemi di questo tipo, è chiaro che l'ampliamento diventa una strada impercorribile. Urbino è stata bocciata subito a Capitale Europea della Cultura, l'amministrazione dove ha sbagliato, secondo lei? È un problema complesso, perché prima di tutto ritengo che nella scelta ci sia stato uno scenario precostituito di tipo geopolitico che già in nuce aveva preso delle decisioni. Non a caso le città del Nord sono state escluse dalla selezione e probabilmente questo perché già si pensava che il Nord aveva già ricevuto sufficientemente visibilità con l'Expo di Milano 2015. Vi sono molte cittadine e molte città del sud o della zona insulare italiana che sono state premiate e questo è come se creasse un riequilibrio di tipo geopolitico. Noi essendo del centro Nord e centro Italia abbiamo comunque sofferto della concorrenza estremamente rilevante di Assisi Perugia e l'amministrazione dove può aver sbagliato, secondo me non ci sono stati degli errori marchiani. Il fatto è che abbiamo avuto oggettivamente poco tempo per pensare a una progettualità più diffusa, radicata e ancorata nelle dinamiche cittadine. Troppo marketing? Ma secondo me c'è stato veramente poco tempo per pensare a questa cosa, c'è stato poco tempo per pensare a questa cosa. Città come Ravenna già ci stavamo pensando da 5 o 6 anni, però il progetto era un progetto interessante e anche lì nella valutazione che è stata fatta, i presupposti sui quali era stata formulata la nostra proposta progettuale, la nostra candidatura, perché il progetto ancora era tutto da sviluppare, si è preoccupato di essere compatibile con quello che sembrava venisse chiesto come elemento caratterizzante di un progetto. Poi alla fine quando hanno fatto la valutazione questi elementi importanti non sono stati più valutati. Torniamo un attimo a Sgarbi che quando è venuto a Orbino ha detto che lui metterebbe una bomba a Santa Lucia. Lei cosa ne pensa di questo tipo di edilizia così a ridosso di una città che comunque rimane patrimonio dell'UNESCO? Dunque, intanto a me sembra strano che una persona che ha frequentato Urbino per mi sembra dieci anni come presidente dell'Accademia di Belle Arti e che quindi per recarsi all'Accademia doveva necessariamente fare un tragitto che passava o sotto o sopra il parcheggio di Santa Lucia non si sia accorto che si stava realizzando quello che lui ha definito un ecomostro. Ci ho detto, ritengo che la zona che è stata individuata e poi quella dove è stato realizzato il parcheggio di Santa Lucia sia una zona sostanzialmente in ombra rispetto alle dinamiche paesaggistiche e artistiche della città. Tanto che negli anni Ottanta Renzo Piano aveva individuato quel sito come uno dei siti più utili e sicuramente compatibili con l'uso di un parcheggio coperto. Quindi il sito è adeguato. Per quello che riguarda l'impatto visivo dovremo noi vedere più avanti quella che è la sua rilevanza perché è prevista una copertura con varie essenze botaniche che dovrebbe quasi sostanzialmente mascherare tutto il sito. Credo che il parcheggio di Santa Lucia sia una grossa opportunità per la città perché la dota di una infrastruttura grande, valida, importante perché se Urbino vuole incentivare la sua vocazione turistica che su base gommata alla fine è quella che ha maggior rilievo per il nostro centro, non poteva non avere un parcheggio in struttura così grande da gemellare poi con quello che resta nella parte ipogea sottorranea del mercatale. Chiudiamo con la domanda libera. Ha un minuto di tempo per dirci il suo programma. Un minuto di tempo è troppo poco. Io posso provare a discutere e a illustrare il titolo della mia candidatura che è Urbino Città Aperta. Dove Urbino Città Aperta sta a significare apertura alle nuove idee, nuove metodologie di gestione della città, apertura e ascolto verso tutte le componenti proattive e attive della città, sia i residenti che i domiciliati, quindi anche gli studenti, i docenti che non risiedono in Urbino e il tutto per dar vita a un fiorire di idee e di progetti basata su una metodologia aperta e non chiusa di governo della città, il più possibile condivisa e aperta allo stesso alla sussidiarietà, sperando di innescare, in scala ovviamente ridotta perché non vorrei che questo fosse preso come un proclama pretenzioso, di innescare in scala microscopica quello che fu il rinascimento Urbinate, una stagione nella quale la signoria dei Moltefeltro si aprì al mondo nonostante fosse una casata di capitani d'arme e aprendosi al mondo e alla cultura fece fiorire quel gioiello che ancora è la nostra città e che ci fa ancora essere molto conosciuti sia in Italia che all'estero. Grazie. 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 Grazie.